Grazie a tutti, grazie alla stampa, agli amici, agli industriali che hanno voluto e anche al pubblico. Io credo che nessuno si dispiacerà, se non sono molti i tifosi che vi volete far accomodare, fatevi accomodare dicendo che si mettono lì alle spalle, che questa è sempre la testa di tutti. Io credo che sia più giusto che ci siano anche i tifosi. Io quasi quasi mi vergogno di presentare l'azienda che ci ha voluto accompagnare. Il mio ringraziamento a tutta l'intenditoria di Benevento, ma anche ex-provincia, ex-regione, anche se un movimento politico di non molto tempo fa parlava di Molisani, quindi in realtà almeno come sport oggi abbiamo unito sia in Benevento sia in Molise e questo è già un grande risultato perché avere degli inventitori come i signori della Molisani che affacciano i loro giocatori e quindi loro interessano i loro giocatori, la nostra, è sicuramente sinonimo di orgoglio e significa che stiamo facendo qualcosa per attirare anche lo giocatori da fuori regione. Dicevo, mi vergogno perché credo che tutti conosceranno la pasta Molisana, dalla pancia che è esponente, con questa famiglia, quindi penso che almeno consumatori di pasta così altro e non è difficile pensare che qualcuno mangerà anche questa pasta. Insieme faremo un fammino. Questa città ancora, anche il giorno fa, ma oggi, mentre giravo per il centro storico a me, a 42 ore di Londra, qualcuno mi ha fermato e mi ha detto Presidente, noi ancora non sappiamo quello che sta succedendo. Beh, se vi può essere di consolazione non lo sappiamo neanche noi, nel senso che stiamo provando a fermare questa giostra per cercare di capire dove siamo soliti e vorremmo di essere stati tutti quanti. Lo diciamo ai tifosi, che sono i nostri primi sostenitori, è uno sponzolo ultimo per così dire, perché chiaramente ciò che togliamo alle famiglie, per non farlo, non ci aspettavo facissimo, è qualcosa che certamente non facciamo come grande piacere. Ho l'occasione per dirlo alla città e a chi magari sta rinunciando una pizza o un gelato per vedere la squadra. Noi apriremo le porte del Vigorito come il Colosseo, quindi le faremo aperte per tutti, non faremo soldi di tutti, faremo qualche spettacolo all'aperto per tutti, ma non abbiamo inventato noi l'economia del calcio, non abbiamo inventato noi i contratti dei calciatori, non abbiamo inventato noi i lavori per rendere idoneo quello che c'è nello stadio, abbiamo dovuto fare una scelta e questa scelta purtroppo ha penalizzato i più giovani, io direi addirittura quelli che amiamo di più, i diffusi del domani, ma se li ha penalizzati, il colpo di azione per dirlo, è perché oggi, avendo probabilmente l'ampiezza dello stadio, ancora siamo in 17.800 e è difficile far quadrare tutte le cose tenendo conto di tutti i problemi che ci sono. Cercheremo di fare meglio nel futuro, perché quello che certamente questa società non vuole è di passare alla storia come una società che vuole speculare con il paccio, lo dicono gli undici anni di storia di Spalbero. Abbiamo vissuto annate i pochi sotto il sole, sotto la neve, sotto il freddo, con il vento, abbiamo provato a fare ticket per famiglie, per bambini, per donne, bambini, anziani, che abbiamo provato in tutti i modi, quanto c'era la possibilità. Oggi con un numero così ridotto di posti, bisognava cautelare soprattutto chi deve dare una mano alla stadio e sono quelli che fanno il tipo dagli spalti, sono quelli che sono la famosa dodicesima forza in campo, che il nostro operatore mi ha stimolato e augurato di vedere sempre cosa che pensiamo che succederà, perché questo fortino, il Ciro di Corito, dovrà essere la nostra casa dove dovremmo costruire i nostri risultati, io non parlo di quadri risultati perché quello sarà sempre il campo a dirlo, ma certamente non stiamo andando a fare un torneo per fare le comparse e per farci i nostri in faccia. Noi con gli amici che ci sostengono da risparte e da vicino, mettendo, io dico mettendo il loro fiume, quello che per loro è il luogo della loro azienda, quindi quello che ti rende orgogliosi di essere venditori, quello che certamente vogliono esporre al mondo, mettendo con una vostra maglia, ci stanno facendo, ci stanno dando un grande onore perché si tratta di aziende di eccellenza, chi si è affacciata per la prima volta, chi invece lo fa già da anni, aveva il diritto, io dico addirittura il piacere di vedersi e riconoscere un giorno di sacrifici. Per me, personalmente, togliere il nome della mia società, il VPC dalla maglia, non è stata una cosa semplice e voglio dirvi che non è stato nemmeno un discorso economico, è stata la simpatia e la disponibilità che mi ha dato il dottor Ferro, il manager della società, la monisana, che mi ha convinto che potevamo lasciare qualcun altro al posto nostro. Noi ci saremo come sempre, ci saremo sulle bandiere, ci saremo sui infili tempi, da anni, da questi anni, ci saremo sulle tempi, sui gesticioni, perché siamo orgogliosi di quello che abbiamo fatto. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. La parola, professa, per chi presenti la sua azienda e saluti e venga giustamente salutata da tutti noi. Grazie, grazie a tutti. Presidente Vigorito per l'accoglienza, davvero non pensavo che avrei ricevuto un'accoglienza così calda e direi quasi familiare. Più che parlare della mia azienda, forse voglio parlare dopo della sua. Di recente ho partecipato ad una tavola autonda e ho sentito un referente pronunciare questa frase che mi ha colpito. L'Italia ha bisogno non di imprese grandi, ma di grandi imprese. Io penso che qui il gruppo IPQC rappresenta proprio il modello di grande impresa, cioè un'impresa che è un faro, che è una luce, che funge da traino, da contagio, da sprone, da stimolo, diciamo a tutto il territorio e alla comunità locale. Un'impresa che, diciamo, nel tempo ha raggiunto dei risultati non solo il territorio nazionale, ma anche internazionale, grazie ad una progettualità veramente importante, integra, impegnata e ha proprio il profumo della vittoria. E che, però, oltre a questo, ha deciso di mettere a disposizione, quindi, della comunità, le proprie ricchezze che ha guadagnato in quel modo così serio, abbracciato un sogno, un sogno importante, che però non è rimasto solo un sogno, ma che è diventato realtà. Quindi noi, come Molissana, sposiamo, diciamo, con grande fierezza e orgoglio questo progetto, che ha tutti i valori in sé, in cui noi crediamo, che al di là, chiaramente, di questa progettualità importante e al di là delle alte competenze tecniche che lo caratterizzano, ha in sé un gran cuore, una grande passione, un grande entusiasmo. Ho letto qualche articolo, Presidente, diciamo su di lei un po', e mi ha colpito una dichiarazione in un'intervista in cui diceva, al suo indresso, chiaramente nella società del Belvento Calcio. Diceva, ho trovato una società che non aveva neanche i soldi per effettuare la trasferta a Prato e dove l'allenatore portava la tutta del tanto. Allora, devo dire, Mutatis Mutatis, anche in Molissana, noi, la mia famiglia di Bugnani, dal 1910, di cui io rappresento la quarta generazione, nel 2011, nel marzo del 2011, anche noi abbiamo abbracciato un sogno, cioè quello di presidiare tutta la filiera produttiva della pasta e di restituire al territorio una realtà storica centenaria, ormai in qualche modo fallita. E questo sogno, grazie proprio a quella progettualità integra importante, oggi è diventata una realtà perché in breve tempo siamo diventati il quinto player nazionale. Quindi, come vede, abbiamo grande affinità, perché anche la vostra è una grande, bella favola, ma che ha in sé chiaramente tutte le connotazioni di realtà, perché voi anche avete abbracciato un sogno in pochissimo tempo, addirittura negli ultimi due anni avete fatto un salto doppio e avete portato questa squadra e con essa tutto il territorio nell'olimpo del calcio. In più, mi inorgoglisce questa presenza che ho visto compiosa e che lei ha anche voluto favorire i giovani. So che suo fratello, che ha dato in qualche modo un modo vita a questo sogno, teneva molto ai giovani e so che negli ultimi anni mi state adoperando anche per costruire accanto allo stadio delle strutture che in qualche modo favoriscano la nascita e la crescita di un settore giovanile. Anche questa è una caratteristica che ci accomuna, perché noi come Comisana sosteniamo molto i giovani sia nella formazione, sia nella possibilità di favorire il successo occupazionale e una serie di azioni sul territorio. Quindi oggi io sono fiera e orgogliosa di firmare con, come ha detto lei, il mio logro, il mio fiore, la maglia giorgolosa di questi guerrieri, perché non dimentichiamo la matrice comune di San Miti, stregoni, che veramente sono saliti sull'olimpo del calcio e che hanno tutte le intenzioni, la grinta, la passione di volerci rimanere. Quindi il mio auguro più grande è proprio questo. Grazie. Grazie a tutti. Presidente, che cosa devo dire? Che come famiglia noi siamo orgogliosi di avere accostato non l'azienda, ma la nostra famiglia alla vostra famiglia 12 anni fa, quando abbiamo iniziato questo percorso, come dico ogni anno, con il nostro piccolo contributo. Però siamo orgogliosi di stare sempre vicino a voi, di avere accostato la nostra, ripeto, non la vostra azienda, ma la nostra famiglia.